Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo un'altra maglia per i prossimi mondiali, la seconda maglia del Messico in edizione FAN, la maglia dedicata ai tifosi. Il nuovo kit da trasferta presenta un design intricato che unisce 5 simboli speciali. Il Messico ha sempre avuto grandi divise per i mondiali, ma secondo molti la maglia della trasferta di ispirazione azteca dei prossimi mondiali del Qatar è la migliore di sempre. La stampa geometrica rossa all over unisce le icone culturali del paese. La camicia d'arte Mixtec è realizzata in materiale riciclabile al 100% ed è stata progettata per evocare lo spirito combattivo delle divinità azteche. Lo stema della squadra, completamente ridisegnato, indica nuova speranza, mentre sul retro del colletto c'è la divinità serpente. Insert in mesh sotto le braccia e la tecnologia anti-umidità AeroReady assicurano il massimo comfort ai tifosi. La maglia è straordinaria, un design rivoluzionario nella mia personalissima classifica. Questa prende 5 stelle, meravigliosa. Qui in alto vedete il costo? Bassissimo, con una spedizione che è stata anche molto veloce. Qualità ottima, tempi di consegna molto veloci, una maglia rifinita benissimo. Che dire, a questo punto non vi rimane che mettere alla prova il sito. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità, quindi continuate a guardare il video. Nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1 metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. 3 3 4 4 5 5 5 6 6 10 10